Sono Rita Elena, sono consigliera comunale, faccio parte della quarta commissione dei servizi sociali. Ho sempre dedicato la mia vita alle persone più bisognose e agli ultimi. Ho deciso di ricandidarmi per appoggiare il nostro sindaco Claudio Scaiola, perché penso che ci possa aiutare ancora molto per fare dei progetti che ancora Imperia ha bisogno. I miei progetti naturalmente si dedicano al sociale, sono un mercato ecosolidale, una culla per la vita, una spiaggia attrezzata per i bambini e anche i bambini disabili e una sala prove dove i ragazzi possano provare in totale sicurezza e in armonia.